Radio Millennium e Leitner presentano Il Viaggio nel Futuro, appesi ad una fune. Le funivie conquistano le città. La mobilità urbana viaggia appesa ad una fune. Ciò che è già realtà in diverse città del centro e Sud America, da Città del Messico a Santo Domingo, da Medellin a Guayaquil, da La Paz a Rio de Janeiro, in Oriente e dalla Cina al Vietnam, passando per la Malesia e le Filippine, sino ad arrivare in Giappone o in Nord Africa, dalla rete funiviaria urbana di Algeri agli impianti in Egitto, stenta ancora a prendere piede in Europa, nonostante gli impianti realizzati a Berlino, Londra, Barcellona e Ankara. Ma l'idea di sfruttare i molteplici vantaggi del trasporto via fune comincia ad interessare il vecchio continente, anche in considerazione del fatto che una funivia richiede meno infrastrutture a terra rispetto a un tram o una metropolitana e quindi occupa uno spazio più ridotto e si inserisce in modo armonioso nel tessuto urbano grazie anche ad architetture ricercate. La funivia, muovendosi in aria, è in grado di superare gli ostacoli, garantendo un'affidabilità di viaggio costante e continua, può risolvere i tanti problemi di traffico congestionato legati al trasporto via terra e annullare i lunghi tempi di attesa per i viaggiatori. A tempi rapidi di realizzazione e sul fronte dell'investimento finanziario, sia in termini di costruzione che in quelli di gestione operativa, offre maggiori vantaggi rispetto ad altre forme di mobilità urbana. I costi sono ridotti di un decimo se confrontati con quelli di una metropolitana e arrivano ad essere ridotti della metà rispetto a quelli di un tram. Dal punto di vista energetico e ambientale, la sostenibilità di una soluzione funiviaria trova la sua massima esplicazione nell'unico motore elettrico chiamato a movimentare sino ad un centinaio di cabine da 10 o 12 posti. Si tratta di mobilità elettrica per eccellenza, grazie anche alle soluzioni tecnologiche che ne hanno migliorato la silenziosità e ridotto i costi di manutenzione. La funivia è la soluzione ideale per il trasporto urbano ed è in grado di soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di viaggiatore, offrendo cabine confortevoli, accessibili da parte di tutti, mamme con carrozzine, persone con disabilità, utenti in bicicletta, solo per fare alcuni esempi, superando dislivelli considerevoli in tutta sicurezza e regalando panorami inediti, grazie alle ampie vetrate di cui sono munite le cabine. Leitner. Il viaggio nel futuro, appesi a una fone. Appuntamento alla prossima.